Come abbiamo annunciato nell'incontro di apertura che abbiamo svolto nella lettura precedente, abbiamo ora di fronte il nocciolo della lettera, il nocciolo duro di questa lettera ai Galati e come spesso succede per il pensiero di Paolo, siamo un po' coinvolti in una specie di sfida riuscire a spiegare un testo tra virgolette teorico di uno spessore teologico consistente, riuscire a spiegarlo in maniera trasparente, anche possibilmente non ricorrendo al linguaggio tecnico, al linguaggio teologico a cui si fa ricorso e che permette di solito di risolvere molto più facilmente le questioni che non attraverso il linguaggio più immediato e più divulgativo. Per cui quest'oggi veramente io sono convinto che dovremo fare un po' fatica a tutti, dovrò cercare di far fatica io nel rendere trasparente questo testo che è per molti aspetti arduo e quelli che avranno già iniziato la lettura se ne saranno accorti e un po' fatica anche voi che dovrete avere questa capacità di ascolto e anche di tensione nell'attenzione. Dopotutto la parola attenzione suppone appunto questo tendere, tendere non solo l'orecchio ma in particolare tendere la mente. E quest'oggi è la mente ad essere tesa, tuttavia Paolo non vuole, lo sappiamo bene, è sempre un pastore Paolo, è un uomo apostolo coinvolto quindi nel messaggio che gli annuncia. Oltre alla mente deve essere perciò teso anche il cuore, tesa anche la coscienza, perché queste sono le radici del credere cristiano. Tre saranno i temi che io vorrei proporre come guida di lettura per il percorso teologico della lettera. Noi ci fermeremo soprattutto nell'interno dei capitoli centrali, come abbiamo detto, però dobbiamo partire ancora una volta dal capitolo primo. Le tre parole, i tre elementi che consideremo, li annuncio già in modo che abbiano a stare fissi nel percorso così che tutti, anche quando avranno perso magari un po' il filo, riescano ogni tanto a vedere una di queste tre stelle polari. La prima è la parola Vangelo, la seconda è invece la parola Fede, Grazia, Fede, Legge, la terza invece è la vita dei figli, è la parola Figlio. Naturalmente questi tre elementi a prima vista così disparati, Vangelo, Legge, Fede e Figlio, si intrecciano tra di loro nell'interno dell'armonia del discorso. Cominciamo allora con la prima parola, la parola Vangelo. Già abbiamo detto che non si tratta del Vangelo scritto in quanto tale, il Vangelo per Paolo è Gesù Cristo, è il messaggio, è l'annunzio, è la persona stessa del Cristo. E noi abbiamo già sentito nella prima lettura che abbiamo fatto che Paolo ripete, non esiste altro Vangelo. E a questo proposito egli puntualizza l'origine di questo Vangelo, la genesi di questo Vangelo, è ciò che io voglio farvi notare giocando anche sul greco, cioè giocando sulle potenzialità della lingua che usa Paolo e che possono essere alcune volte un po' disattese nell'interno della traduzione. Leggiamo i versetti 11-12 del capitolo primo. Metterò l'accento appunto su una serie di preposizioni, preposizioni greche con l'equivalente italiano, per cercare di mostrare qual è la genesi dell'Evangelo, dove sboccia questo annuncio di salvezza che in Cristo si attua. Dice Paolo, vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è modellato sull'uomo. Sull'uomo, questa è già una traduzione parafrasi. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Ecco, vediamo quali sono le preposizioni, tre preposizioni. Prima di tutto, il Vangelo, vi è stato tradotto parafrasando, non è modellato sull'uomo. In greco abbiamo semplicemente kataanthropon, secondo l'uomo. Non è secondo la mentalità dell'uomo. Secondo momento, dice. Io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, paraanthropo, cioè non l'ho ricevuto quasi per scorrimento da uomini. Quindi, da un lato abbiamo la fondazione dell'Evangelo, che non è su ragionamenti umani, e la trasmissione che non avviene attraverso il gioco razionale dell'uomo, attraverso la comunicazione normale da uomo a uomo, attraverso un dialogo intraumano. Il terzo, ecco la terza preposizione, la prima greca era kata, la seconda parà, la terza invece, per rivelazione di Gesù Cristo. In greco, dia apocalipseos, attraverso l'apocalisse di Gesù, la rivelazione, come dice il termine greco apocalisse, di Gesù Cristo genitivo soggettivo, come si dice, cioè attraverso la rivelazione che Gesù Cristo ha fatto. Come vedete, anche quelli che non sanno il greco possono perciò facilmente vedere il movimento di queste preposizioni. Le preposizioni partono, se volete, dal basso. Kata è la fondazione, non è su fondazione di uomo. Poi c'è lo scorrimento orizzontale. Parà non viene attraverso un canale umano, ma ecco la grande mediazione di A, quasi verticale, che viene dall'alto attraverso l'illuminazione, la rivelazione. E con queste tre preposizioni Paolo ha voluto sottolineare il carattere, parliamo teologicamente adesso, il carattere trascendente dell'Evangelo, del messaggio che egli comunica. Non è un messaggio che sboccia dal terreno degli uomini, ma scende dal cielo di Dio. E a questo punto Paolo aggiunge qualcosa, una seconda indicazione. Dopo aver definito l'origine, ecco la forza dell'Evangelo. Se è vero che il Vangelo non sboccia dalla nostra esistenza, dal nostro interno, dal nostro cuore, dalla nostra esperienza, ma ci viene donato, è inevitabile che esso abbia un'efficacia straordinaria. Di fatti, Paolo descrive la forza di questo Evangelo presentando se stesso. Questo Evangelo è talmente non nostro, è talmente qualcosa che arriva dall'esterno di noi che ha una tale forza da poter distruggere persino l'opposizione dell'uomo. E questo egli dice, ve lo posso dire io, attraverso la mia testimonianza. E allora a questo punto cercate di stare attenti a una espressione che è evidentemente in ammiccamento, in riferimento con l'espressione che ho detto prima, di Apocalipsus, attraverso l'Apocalisse di Gesù Cristo, la rivelazione di Gesù Cristo, perché voi sentirete a un certo momento che egli parlerà di una rivelazione, di una Apocalisse in me, nell'interno di me. Ma ascoltiamo la rappresentazione della forza, dell'efficacia dell'Evangelo, realtà divina e quindi potente, perché appunto non nasce dalle semplici meccanismi, dai semplici dinamismi, dalle semplici forze dell'uomo. Ecco, questa efficacia ora noi la vediamo rappresentata nella narrazione della conversione di Paolo. Paolo è uno dei passi in cui Paolo racconta in prima persona come si è convertito. se volete andate a vedere negli Atti degli Apostoli dove vi incontrerete con tre narrazioni che Luca però elabora con la sua penna della vocazione di Paolo nel capitolo 9, nel capitolo 22, nel capitolo 26, ben tre volte. Metto in bocca a Paolo questa esperienza traumatica ed esaltante che egli ha vissuto. Ora Paolo la dice con poche pennellate la rappresenta mettendo mettendovi alla radice la forza dell'Evangelo il messaggio di salvezza del Cristo. Ascoltiamo i versetti 13-16 Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ecco il grande passato l'orizzonte che egli ha lasciato alle spalle l'orizzonte nel quale era profondamente immerso che lo avvolgeva come una ragnatela che lo possedeva integralmente accanito egli era ma ed ecco la grande svolta del versetto quindicesimo e attenzione adesso di identificare l'apocalisse la rivelazione che si accende in lui lo sentirete col verbo rivelare l'apocalisse en emoi in me ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare in me più che a me suo figlio la traduzione a me non rende l'originale rivelare dentro di me in me suo figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani subito senza consultare uomo eccetera ecco la storia Paolo usa sempre questo schema le poche volte in cui accenna la sua vocazione al cristianesimo la vocazione del Cristo la sua apocalisse l'apocalisse in lui del Cristo sempre attraverso lo schema prima poi e tutto è qui e all'interno c'è come questa lama questa spada che trafigge la sua vita e la sua esistenza a questo punto Paolo si lascia prendere dal filo autobiografico e guardate bene questo è il terzo elemento che vogliamo considerare siamo sempre sotto la stella Vangelo questo elemento autobiografico diventa lentamente si configura come elemento teologico per cui noi da questo momento in avanti dovremmo interessarci di una questione storica di una questione della vicenda personale di Paolo ma questa questione personale ha continuamente riverberi ha continuamente in trasparenza dei connotati delle qualità di tipo teologico per cui dobbiamo stare attenti a scoprirne il messaggio il significato cominciamo l'Evangelo una volta che è entrato dentro di me dice Paolo io l'ho fatto germogliare nella solitudine è un cenno autobiografico lo troviamo nel versetto 17 senza nel versetto 16 senza consultare nessuno senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me mi recai in Arabia e poi tornai a Damasco la via di Damasco il luogo della conversione lui non va a Gerusalemme si ritira in Arabia attenzione bene che col termine Arabia allora si indicava una regione sterminata immensa compresa probabilmente lui allude alla zona meridionale della Siria e la zona in pratica che corrisponde poi all'attuale Giordania forse lui parla dell'Arabia Nabatea dove passavano le carovane di questi famosi mercanti Nabatei che hanno dato origine a quella stupenda meravigliosa unica città che è Petra ebbene Paolo nel deserto ma io vorrei che voi fissate la vostra attenzione sempre su questo in questo versetto su un elemento che compare che comparirà per tre volte continuiamo a muoverci su un ritmo ternario senza Gerusalemme poi avremo a Gerusalemme quindi senza andare a Gerusalemme secondo momento i versetti 18-19 qui entra in chiesa il rapporto con la chiesa madre il rapporto con gli altri apostoli vedete che Paolo ha voluto sottolineare ve lo dicevo anche nell'altra lettura che egli ha voluto sottolineare la non dipendenza nel ricevere il messaggio di Cristo dagli apostoli non per affermare una sua ipotetica autonomia assoluta nei confronti della chiesa di Gerusalemme perché egli noi sappiamo che adesso lo vediamo andrà proprio a Gerusalemme ma per affermare che egli ha lo stesso livello degli apostoli egli è stato chiamato direttamente dal Cristo non attraverso una mediazione umana come avverrà per le generazioni successive ecco il secondo momento secondo momento a Gerusalemme e qui entra in scena una figura rilevante che vedete già una posizione di prestigio che Paolo riconosce questa figura la sentiamo subito la troviamo nei versetti 18-19 in seguito dopo tre anni quindi abbiamo un lungo periodo Paolo lo sottolinea dopo tre anni andai a Gerusalemme per consultare Cefa e rimasi presso di lui quindici giorni degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo il fratello del Signore notiamo almeno due elementi primo elemento indicazione vedete è una storia sono elementi della sua vita ci dice persino che è stato tre anni dopo la conversione che è stato si è fermato due settimane a Gerusalemme e che ha incontrato anche due persone vedete che le due persone sono scelte intenzionalmente io penso che voi siate capaci già di rispondere a perché si sceglie proprio questa coppia di persone si sottolineano queste coppie questa coppia di persone io penso che lo sappiate dire sulla base proprio dei personaggi da un lato abbiamo Cefa Cefa Pietro pensate nella prima lettera ai Corinzi soltanto nella lettera ai Galati Cefa è citato ben otto volte proprio col termine Cefa poi ci sono altre volte vedremo subito quindi chi è chiamato Pietro e poi secondo è questa figura sulla quale si discute per la definizione esatta Giacomo fratello del Signore noi sappiamo comunque con chi debba essere identificato probabilmente secondo molti studiosi non è da identificare né con l'uno né con l'altro dei Giacomo apostoli Giacomo fratello del Signore è un discepolo ma sappiamo che ha una funzione decisiva nell'interno della chiesa di Gerusalemme è colui che costituisce in un certo senso una specie di alfiere del giudaismo cristiano fratello del Signore perché era legato a quella specie di comunità giudeo cristiana anche imparentata col clan di Gesù nei cui confronti ribadiva una specie di legame primaziale siamo parenti siamo giudei autentici come lui e noi siamo un po' i custodi della sua memoria contro e voi sappiamo che poi la polemica si aprirà contro questi innovatori questi progressisti sul modello di Paolo che vogliono un po' rimescolare le carte presentare un cristianesimo che non è ancorato alla roccia del giudaismo ecco perché Paolo sottolinea perché la sua polemica si aprirà proprio su questo tipo di discorso sul discorso del rapporto col giudaismo ma egli va ancora in avanti ed eccoci ancora una volta la parola Gerusalemme questa volta per la terza volta la troviamo nell'interno del capitolo 2 al versetto 1 notate la cronologia Paolo ormai è da tempo convertito Paolo è da tempo già predicatore finora ha fatto solo un viaggio a Gerusalemme per avere questo questo riferimento alla chiesa madre ora sento il bisogno di ritornare dopo 14 anni andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba portando con me anche Tito e questi due personaggi sono altrettanto significativi perché noi sappiamo che tutte e due hanno l'uno è di matrice pagana Tito di matrice greca l'altro Barnaba aveva nel suo interno aveva avuto una funzione particolare per l'espansione del cristianesimo all'orizzonte pagano quindi cominciamo già sono un po' come due segnali che Paolo porta a Gerusalemme sono coloro che con lui hanno aperto l'orizzonte del cristianesimo e qui a Gerusalemme dopo 14 anni avviene la grande verifica la grande il grande confronto e io vorrei allora adesso leggere questi versetti perché sono versetti importanti sono versetti sempre autobiografici è sempre la storia di Paolo ma adesso vedete il discorso teologico cresce sempre di più è il confronto col giudaismo con i giudeo cristiani che affermavano la necessità del passare attraverso il giudaismo per arrivare al Cristo è ormai il nuovo profilo il profilo del cristianesimo universalistico il cristianesimo gentile quello che è fatto di pagadi che non si sono fatti circoncidere il caso di Tito ecco la descrizione del confronto senza compromessi ascoltiamo i versetti mi fermerò ogni tanto su alcuni versetti più significativi vi andai dice Paolo dal versetto 2 in avanti fino al 10 leggiamo in seguito ad una rivelazione ancora una volta egli sente che c'è qualcosa che lo supera sempre in questa missione l'apocalisse c'è sempre alle spalle in principio c'è una parola che ti precede esposi esposi loro il vangelo che io predico tra i pagani ma lo esposi privatamente alle persone più ragguardevoli cominciate a sottolineare questa espressione alle persone più ragguardevoli perché lo feci? quindi alle persone che avevano autorità in quella chiesa per non trovarmi nel rischio di correre o di aver corso in vano quindi Paolo con umiltà si presenta a Gerusalemme alla chiesa madre alla chiesa petrina a Pietro ancora proseguiamo ora neppure Tito che era con me sebbene fosse greco fu obbligato a farsi circoncidere e questo proprio a causa dei falsi fratelli che si erano intromessi e qui Paolo perde la sua compassatezza perde la sua dimensione se volete tra virgolette di umiltà per acquistare invece la dimensione del combattente questo io non ho fatto ho portato con me Tito adesso io ve lo parafraso ho portato con me Tito apposta e per di più Tito io non l'ho fatto circoncidere apposta apposta per chi? a causa di questi falsi fratelli che si erano intromessi a spiare e qui c'è tutto il livore un po' anche lo sdegno di Paolo nei confronti di questi fratelli che spiavano non avevano neppure la dignità del fronteggiarci a viso aperto a spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù ha lo scopo di renderci schiavi e comincia il tema libertà e schiavitù che sarà importante nella lettera ad essi però non cedemmo per riguardo neppure un istante perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra di voi qui Paolo fa un atto provocatorio perché noi sappiamo che lo stesso Paolo ha un comportamento diverso in un altro contesto dove non deve vincere questa gente questo atteggiamento così gretto questo atteggiamento così meschino che purtroppo alligna ancora tante volte nell'interno delle chiese questo atteggiamento da spia proprio sotterraneo del pettegolezzo ecclesiastico quasi sempre pronto in qualche modo a colpire per allusioni per ammiccamenti ecco Paolo fa apposta allora a fare un gesto clavoroso come un po' facciano i profeti in un altro contesto dico non l'ha fatto forse lo sapete anche voi la storia che si ha nel capitolo sedicesimo degli atti e mi pare proprio al versetto otto se ricordo bene in cui Paolo prende Timoteo e lo fa circoncidere a riguardo per riguardo nei confronti dei giudei di quella regione perché Paolo fa questo Timoteo come sapete era figlio di madre ebrea e di padre greco madre ebrea quindi egli era ebreo in senso però sapete i matrimoni misti poi non si fa più l'osservanza non era stato circonciso Paolo allora diceva proprio per riguardo a quell'ambiente a quei giudei io per non provocarli inutilmente tanto lui diceva circoncisione non circoncisione è una cosa marginale è una togliere una membrana Paolo provocatoriamente in questo caso proprio per questo ma per non dare scandalo a loro l'ho fatto circoncidere vedete il duplice atteggiamento qui Paolo vuole dare una lezione perché adesso d'orina avanti comincerà ad alzare il vessillo dell'Evangelo della sua libertà andiamo avanti nel versetto siamo arrivati al versetto 6 da parte dunque delle persone più ragguardevoli risottolineiamo la presenza di questi personaggi quali fossero allora non mi interessa perché Dio non vada a persone alcuna a me terza volta da quelle persone ragguardevoli non fu imposto nulla di più vedete che Paolo dice io poi mi sono comportato anche secondo i canoni se si vuole della gerarchia stessa sono andato mi sono confrontato con loro ho fatto vedere qual era il mio pensiero qual è l'autentico pensiero dell'Evangelo quindi con trasparenza però al tempo stesso ho voluto che loro mi confermassero e queste persone ragguardevoli evidentemente lui allude ai responsabili della comunità di Gerusalemme non mi hanno imposto nulla di più anzi ed ecco il versetto 7 che è importante anzi visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi come a Pietro quello per i circoncisi poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani riconoscendo la grazia a me conferita ebbene Giacomo Cefa e Giovanni ritenute le colonne diedero a me e a Barnaba la loro destra in segno di comunione perché noi andassimo verso i pagani ed essi verso i circoncisi questo è chiarissimo Paolo dice la sono andate queste persone ragguardevoli e tra queste lui fa balenare ormai quali sono quelli che contano cioè Giovanni Cefa e Giacomo che sono notate l'espressione le colonne nella prima lettera dei Corinzi al capitolo terzo quando noi leggemmo la lettera dei Corinzi abbiamo visto che la presenza l'immagine della chiesa che Paolo presentava era l'immagine di un edificio di un tempio che aveva un unico fondamento che era Cristo sul quale gli apostoli costruivano tiravano sulle mura ebbene in queste mura le colonne sono rappresentate da Giovanni da Cefa da Giacomo dagli apostoli i quali hanno una funzione basilare nell'interno della comunità ecclesiale e Paolo ha rispetto nei loro confronti anzi alla fine abbiamo fatto persino un gesto comune per siglare la legittimità della loro predicazione agli ebrei ai giudei e della mia predicazione ai gentili ai pagani e qual è questo gesto? l'avete sentito ci siamo dati la destra in segno di comunione la darsi la destra è l'immagine il simbolo dell'impegno solenne ufficiale ma vedete che Paolo aggiunge qualcosa di più non è soltanto un impegno è un impegno per la coinonia per la comunione fraterna nel senso che la chiesa Paolo dice vedete ha strade diverse ci sono quelli che vanno a parlare lontano lungo territori di frontiera e ci sono quelli invece che stanno nell'interno del grembo protetto parlano ai loro parlano a quell'ambiente che è abituato già a sentire un certo tipo di discorso ebbene entrambi però siamo con le mani unite entrambi ci muoviamo per la stessa strada per lo stesso itinerario anche se le nostre strade materiali divergono così profondamente ed è per questo motivo che Paolo riconosce che la chiesa di Gerusalemme ha diremmo noi canonizzato ha avallato ufficialmente la missione ai pagani il cristianesimo contrariamente alla tentazione dei giudeo cristiani ed ecco che allora Paolo apposta porta Tito per mostrarlo contrariamente alla loro convinzione il cristianesimo può essere praticato vissuto abbracciato anche dai gentili dai pagani senza bisogno che essi osservino tutto l'apparato della tradizione giudaica l'unica cosa che ci hanno chiesto le colonne di Gerusalemme è di ricordarci dei poveri ciò che mi sono preoccupato di fare ed è verissimo perché voi sapete che con questa espressione Paolo vuole alludere alla prassi della colletta per i poveri di Gerusalemme quella colletta nella quale egli si era impegnato con tutto il cuore con tutta la passione se è vero che nella seconda lettera dei Corinzi quasi fa un piccolo trattatello un trattato due capitoli l'ottavo e il nono sono dedicati all'importanza della colletta ed egli si preoccupa in tutti i modi continuamente che tutte le chiese si ricordino della chiesa di Gerusalemme e la chiesa di Gerusalemme da chi era fatta? era composta da giudeo-cristiani mostrando che quindi la coinonia efficace effettiva avveniva e a questo punto facciamo un passo in avanti è il quarto passo siamo sempre nell'interno di un discorso autobiografico ora sempre all'insegna della stella Vangelo abbiamo visto l'origine del Vangelo abbiamo visto l'efficacia del Vangelo ed ora è il Vangelo che si sta diramando nell'interno dell'esistenza di Paolo ma nell'interno ormai abbiamo ben capito dell'esistenza della chiesa e qui avviene una nuova tappa che è una tappa però tragica questa drammatica è una tappa vissuta con amarezza dalla chiesa delle origini quasi certamente vi dirò poi anche che abbiamo un eco persino del modo amaro con cui è stata vissuta un eco nei secoli successivi in forme diverse il problema è tutto quello dell'incidente di Antiochia questo incidente di Antiochia ci viene ricordato da Paolo nei versetti 11-14 questo incidente di Antiochia ci permette di aprire un po' anche la discussione sul rapporto tra Paolo e Pietro sul rapporto vedete anche tra l'autorità suprema che egli ha riconosciuto le colonne di Gerusalemme e lui apostolo per mandato del Signore ascoltiamo la narrazione dal versetto 11 in avanti sempre nel capitolo 11-11 nel capitolo secondo quando Cefa venne ad Antiochia e ad Antiochia era stato annunciato l'Evangelo ai pagani poi vi citerò il passo dove questo era venuto mi opposi a lui a viso aperto perché evidentemente aveva torto infatti prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo il tutore dei giudeo cristiani egli prendeva cibo insieme ai pagani ma dopo la loro venuta cominciò ad evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi ed anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione al punto che anche Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia ora quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo ti si accefa in presenza di tutti se se che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei cerchiamo di vedere quali sono le ragioni del conflitto comunque il conflitto è netto nitido ad Antiochia perché proprio ad Antiochia scatta un po lo scandalo noi andiamo a vedere negli atti degli apostoli e negli atti degli apostoli al capitolo undicesimo sentiamo questa narrazione che Luca ci fa dal versetto 19 al versetto 26 intanto quelli che erano stati dispersi dopo la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano erano arrivati fin nella Fenicia a Cipro e ad Antiochia e non predicavano la parola a nessuno fuorché ai giudei ma alcuni fra loro cittadini di Cipro e di Sirene giunti ad Antiochia cominciarono a parlare anche ai greci predicando la buona novella del Signore Gesù e la mano del Signore era con loro e così un gran numero credette e si convertì al Signore la notizia giunse agli orecchi della chiesa di Gerusalemme la quale mandò Barnaba ad Antiochia quando questi giunse e vide la grazia del Signore si rallegrò e da uomo virtuoso qual era pieno di spirito santo e di fede esortava tutti a perseverare con cuore risoluto nel Signore una folla considerevole fu condotta al Signore Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo e trovato lo condusse ad Antiochia rimasero insieme un anno intero in quella comunità e istruirono molta gente ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani come vedete ad Antiochia Antiochia è la culla del cristianesimo pagano dei gentili che si convertono al cristianesimo senza passare attraverso il giudaismo c'è un ispettore che arriva Barnaba e questo ispettore come vedete dalla chiesa madre riconosce anzi va a chiamare Paolo e gli dice questo è un campo attivo un campo nuovo fecondo nel quale annunciare il cristianesimo il campo dei pagani ebbene Pietro non sappiamo quando e come arriva in ispezione e in ispezione egli fa questa specie di verifica della comunità la comunità di Antiochia comunità a prevalenza pagana di origine pagana Pietro si comporta liberamente non è forse vero che proprio Pietro era stato uno dei primi ad ammettere nel mondo cristiano un pagano vedi la narrazione di Cornelio capitolo decimo degli atti la conversione del centurione Cornelio era stato Pietro e proprio questa conversione era avvenuta attraverso il simbolo del cibo infatti ricordate quella visione che Pietro aveva avuto mangia anche il cibo impuro e Pietro allora molto liberamente si sedeva a mensa con i pagani non osservando tutte le prescrizioni ebraiche ma ecco che da Gerusalemme viene un altro ispettore un ispettore molto più rigido molto più rigoroso molto più implacabile e sono quelli che vengono in nome di Giacomo il rappresentante del giudaismo cristiano e allora Pietro subito si mette un po' più nella riga tradizionale e allora Paolo non sopporta questa ipocrisia di Pietro se tu ti comportavi prima così e facevi così perché tu vuoi ora imporre quell'altro comportamento che solo per ragioni diplomatiche per ragioni di convenienza hai praticato ecco l'argomentazione di Paolo questa tensione è una tensione abbastanza forte a quanto pare perché Paolo vede nel comportamento di Pietro un atteggiamento ambiguo infatti vedete l'espressione io mi opposi katà prosopon in greco a faccia a faccia a lui e aggiunge nel versetto 14 in presenza di tutti non è una critica così sotterranea sempre Paolo ama questa dichiarazione perché aveva palesemente torto ecco e qui il verbo greco kataginoskein è proprio il verbo dell'incolpare io lo condanno aveva torto belli e doveva essere condannato Pietro per questo suo comportamento è un conflitto amaro questo che probabilmente la tradizione cristiana successiva ha cercato da un lato di esasperare dall'altro di far morire pensate due testimonianze curiose da una parte abbiamo la testimonianza della tradizione giudeo cristiana la quale divaricherà il contrasto e darà la colpa a Paolo Paolo era un avventuriero il suo scopo era quello di distruggere l'autentico messaggio di Gesù e il cristianesimo ecco questi scritti apocrifi che attaccheranno continuamente Paolo abbiamo ricordato già in altre occasioni una delle ragioni per cui Paolo odia così tanto i giudeo cristiani e i giudei dice in genere gli ebrei dicono questi testi apocrifi e perché è tutto bisogna sempre cerce la fam perché alla vase c'è stata una sua delusione d'amore è stato voleva sposare la figlia del sommo sacerdote e non è riuscito e allora da quel momento in avanti questo livore l'ha scaricato sulla comunità che l'aveva rifiutato questa è un'argomentazione una linea esasperare la divisione e mostrare Paolo come eretico la tradizione giacobita giudeo cristiana che si rifà a Giacomo idealmente dall'altra parte invece abbiamo la testimonianza di Clemente Alessandrino quindi la testimonianza della chiesa la grande chiesa non della chiesa marginale settaria eretica la quale si preoccupa questa grande chiesa di far vedere che non è successo niente e allora noi sappiamo che Clemente Alessandrino dice no dovete capire bene Paolo nella lettera ai Galati Paolo ha litigato con un tale cefa e non sappiamo bene chi fosse ma non era l'apostolo Pietro era un altro proprio perché si conservasse quell'immagine che mi pare è stata usata una volta anche dal pittore Timoncini all'interno di uno dei suoi manifesti citando un testo dell'arte paleocristiana per conservare ancora quell'immagine idilliaca che rappresenta i due volti sempre tra di loro congiunti due volti Pietro e Paolo che sono in armonia tra di loro certo tutto quello che abbiamo letto prima mostra l'armonia le loro mani si erano intrecciate per un giuramento quasi per un impegno solenne di coinonia però Paolo ricorda quando Pietro sbaglia io glielo devo dire quando esiste una scelta di tipo pastorale in questo caso evidentemente che può essere discussa io ho il dovere anche di rivolgermi all'autorità e di dover denunciare l'eventuale errore dell'autorità in una scelta di questo genere di tipo pratico pastorale vorrei aggiungere e concludiamo questo primo grande capitolo sul Vangelo sulla forza del Vangelo vorrei aggiungere una piccola questione una questione marginale sulla quale però gli studiosi hanno anche qui versato i tradizionali fiumi di inchiosti questa controversia a Gerusalemme l'andare a Gerusalemme di di Paolo una controversia che abbiamo visto non era controversa in realtà la controversia è successiva l'andare a Gerusalemme per avere l'avallo della sua missione la missione dei pagani coincide con il concilio di Gerusalemme raccontato nel capitolo quindicesimo degli atti è la versione paolina alcuni studiosi pensano che in realtà si tratti di una versione paolina di un altro evento raccontato nel capitolo undicesimo degli atti altri pensano che si tratti di due fatti diversi alcuni pensano che sia la stessa realtà lo stesso evento ricordatevi io vi dicevo l'ultima volta questo dipende anche molto dai destinatari a quali Galati mai scrive Paolo per poter anche risolvere questa questione io penso che tutto sommato il problema è marginale io sono convinto personalmente che la pagina di Galati 2 sia molto simile agiti lo stesso problema che là era rappresentato invece in maniera formale nell'interno del concilio di Gerusalemme il primo dei concili dal capitolo quindicesimo degli atti per cui avremmo due testimonianze diverse Paolo è andato in quell'occasione a Gerusalemme per partecipare a quel concilio per sentire le colonne della chiesa e per averne come risultato che l'annuncio del cristianesimo non è destinato soltanto ai giudei ma anche ai pagani senza che i pagani abbiano a passare attraverso la cappa delle osservanze giudaiche della circoncisione in quell'occasione anche come abbiamo sentito prima nella lettura di Paolo si sono decisi un po' i campi d'azione Pietro avrebbe annunciato prevalentemente come Giacomo e giudeo cristiani Paolo avrebbe annunciato anche ai pagani non era una opposizione di chiese come si è pensato nel secolo scorso chiesa Petrina chiesa Paolina chiesa cattolica da una parte istituzionale rigida e dall'altra parte una chiesa libera chiesa carismatica chiesa protestante antelitteram quasi quella di Paolo realtà era proprio le mani si erano intrecciate dice Paolo e ognuno aveva però orizzonti diversi e liberi frontiere diverse in cui annunciare l'Evangelo e siamo giunti al secondo elemento probabilmente non riusciremo a svilupparli tutte e tre secondo elemento è la tesi teologica vera e propria e come vedete la teologia adesso diventa anche non più rappresentata nella vita nelle vicende ma diventa anche espressa in una maniera rigorosa in una maniera veramente teologica e lo sentiamo subito basti soltanto ascoltare nel capitolo secondo il versetto sedicesimo ed ecco che risentiamo quelli almeno che hanno già ascoltato le lezioni tenute anni fa hanno ascoltato le lettere romane sentiranno che Paolo qui comincia a usare quel linguaggio che poi trionferà nella lettere romane la tesi dell'Evangelo il cuore dell'Evangelo è fede e legge in antitesi e Paolo lo rappresenta con quella celeberrima frase che sarà commentata ripetutamente nei Galatini romani che suona così l'uomo non è giustificato dalle opere della legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo non è contento Paolo ripete ancora abbiamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge non è contento Paolo lo ripete per la terza volta sembra lo stesso versetto poiché dalle opere della legge non verrà giustificato nessuno e questa è la celeberrima tesi della giustificazione per la fede e non per le opere tesi capitale del cristianesimo non come si sente dire qualche volta da chi non conosce la teologia tesi capitale del luteranesimo è tesi capitale della dottrina cristiana questa cattolica protestante ortodossa sarà la questione dell'interpretazione della tesi che muterà e allora vediamo un momento di dispiegare ancora una volta questo tema anche continuando un po' la lettura il commento che Paolo stesso ne fa della sua tesi la tesi fede e legge che cos'è la fede ma per Paolo il concetto è abbastanza chiaro la fede è l'apertura radicale e incondizionata all'azione del Cristo diciamolo con una parola che possa essere avere un po' di simbolismo almeno al di fuori quindi del linguaggio tecnico la fede è la trasparenza è la trasparenza assoluta alla luce della grazia Paolo è fermamente convinto e questo è messaggio cristiano radicale che il primato è di Dio prima di tutto parte Dio la fede altro non è che allargare le braccia e lasciarsi inondare dalla luce inondarsi dal Cristo anzi egli fa un passo in avanti è fine questa espressione che egli usa ed è nel versetto 20 che io vi leggerò lui dice qualcosa di più non è solo trasparenza usiamo un'altra parola che serva per ricordare il discorso è anche trasfigurazione perché se egli passa dentro di noi non ci fa essere più creature e qui abbiamo il versetto ventesimo un versetto bellissimo celeberrimo sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo ma Cristo vive in me celebre espressione paolina questa per rappresentare la totale inondazione la totale presenza che attraverso la fede io allargando le braccia lascio entrare il Cristo in me ed è lui ormai che opera in me è lui che vive in me è lui che agisce in me però Paolo contemporaneamente nel versetto 19 mostra come ci sia un altro elemento un elemento oscuro un elemento che è antitetico alla fede è una specie di paratia che io alzo paratia fatta da me con le mie mani sono io le opere della legge cioè l'uomo che agisce il quale si erge di fronte alla grazia che lo vuole salvare e dice io da solo mi salvo e tu mi devi salvare perché io ho compiuto le opere il merito è attraverso le mie mani che io ottengo la salvezza non attraverso la tua mano che mi solleva e qui entra naturalmente il discorso non facile sulla legge io soltanto vi vorrei dire farei far vedere adesso dal vivo un particolare quanto è difficile il testo di Paolo io ho citato questo versetto 19 che cosa vuol dire esattamente in realtà mediante la legge io sono morto alla legge per vivere per Dio ci sono tantissime interpretazioni probabilmente Paolo intende così mediante la legge nuova io sono morto alla legge antica per vivere per Dio e la legge nuova è la legge dello spirito di cui parlerà più avanti quindi gioca sul termine legge oppure secondo alcuni altri è così mediante la legge la legge mi ha talmente abrutito mi ha talmente fatto vedere miserabile che io sono morto per questa legge e una volta morto per questa legge comprendendo che questa legge non mi salvava Dio attraverso il Cristo mi ha fatto vivere come vedete il discorso poi esegetico sui particolari può essere molto complesso ma noi diciamo ancora qualcosa a proposito della legge la legge Paolo dice è sicuramente una realtà preziosa è una realtà importante non posso tranquillamente cancellarla perché non posso cancellarla e tutti anche quelli che non conoscono molto la Bibbia sanno che nell'interno dell'Antico Testamento la legge ha una funzione salvifica anzi Paolo dice qualcosa di più dice che la legge è stata portata agli uomini dagli angeli e qui riflette lui conosceva bene la tradizione giudaica riflette la tradizione giudaica la quale affermava che erano stati gli angeli a rivelare la legge era venuta attraverso la mediazione di Mosè e allora come mai la legge diventa invece pericolosa se è una realtà santa anzi lui dirà è una realtà preziosa è il pedagogo è il maestro che ci porta al Cristo e la sua risposta è proprio nell'interno del modo con cui si vive la legge se io la legge la prendo esclusivamente come principio di autosalvazione essa mi fa vedere che prima di tutto non posso salvarmi anzi in più perché io continuo mi dà il senso quasi del peccato io continuo a violarla perché non riesco ad osservarla sempre tutto da solo la fragilità dell'uomo è radicale l'uomo è peccatore il risultato è che proprio questo elemento che mi doveva salvare alla fine mi fa precipitare di gradino in gradino mi fa capire sempre di più la mia colpevolezza mi fa capire sempre di più la mia maledizione e mi dice Paolo e questo paradossalmente diventa un elemento positivo perché perché mi fa sentire il bisogno di un altro che stia sopra e che mi salvi mi fa sentire il bisogno della grazia di Cristo scriveva un teologo a proposito del versetto proprio di questo versetto 19 per esempio che abbiamo letto poco fa prima che venisse la legge il peccato era allo stato latente quasi torbido venne la legge e anziché aiutarmi a liberarmi il peccato si infiammò e prese la sua chiara figura di trasgressione ecco è ciò che dice in maniera particolare nel capitolo terzo in questo caso al versetto 19 perché allora la legge essa fu aggiunta per le trasgressioni fino alla venuta della discendenza per la quale era stata fatta la promessa e fu promulgata per mezzo di angeli attraverso un mediatore ecco che cosa dice Paolo la legge è venuta per farmi vedere sempre di più la trasgressione darmela da vedere con gli occhi perché mi imponeva di fare delle cose che mi avrebbero salvato io tentavo di farlo non ci riuscivo ed era una realtà preziosa c'era un angelo questo angelo mi ha portato a cercare il Cristo perché la legge da sola non mi avrebbe salvato ed ecco allora il suo ragionamento dal capitolo capitolo terzo sempre i versetti ventitré seguenti prima che venisse la fede noi eravamo rinchiusi in greco abbiamo syncleiomenoi eravamo rinchiusi con una chiave in una prigione sotto la custodia della legge in attesa della fede che doveva essere rivelata così la legge è per noi come un pedagogo che ci ha condotto a Cristo perché fossimo giustificati per la fede ma appena è giunta la fede noi non siamo più sotto un pedagogo ed ecco che Paolo dopo aver descritto questa liberazione eravamo tutti prigionieri avevamo questa legge che continuamente ci ricordava quello che dovevamo fare per essere salvati noi peccatori continuavamo in più a violarla e avevamo sempre più il senso della nostra miseria ebbene tutto questo ci poteva portare alla disperazione noi abbiamo avuto la fortuna di sapere che un giorno c'era uno che guardando la nostra miseria ci avrebbe sollevato ed allora la grande svolta e Paolo la descrive ora in una pagina bellissima la pagina che è quella che sigilla tutto il secondo capitolo e prepara il terzo tutto il secondo capitolo tematico intendo dire il secondo tema della fede delle opere e prepara quello dei figli è una pagina molto famosa possiamo ascoltarla io ve ne leggerò poi un pezzetto nell'originale greco perché è il pezzetto forse è il vertice è l'apice del discorso di Paolo tutti voi infatti siete ora figli di Dio per la fede in Cristo Gesù poiché quando siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo vedete che è apparsa la parola figlio e per di più è apparsa la parola battesimo Paolo dice quando voi avete vissuto l'esperienza di fede battesimale in quel momento voi avete rivestito la vostra nuova immagine la vostra nuova realtà Paolo usa l'immagine della veste che nel mondo orientale è simbolo della dignità nuova non di qualcosa di superficiale come è stato purtroppo inteso da Lutero per esempio ma le diceva sotto la tua miseria ti ha messo sopra un manto tu resti sempre miserabile sotto tutto cariato all'interno ti sfaldi nel tuo peccato no questo manto che sta sopra è in realtà nel linguaggio della Bibbia la trasformazione radicale nella lettera ai romani capitolo tredicesimo versetto quattordici Paolo dice rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri quindi vuol dire essere una nuova realtà completa abbiamo nell'interno della lettera ai Colossesi se voi provate a vedere la lettera ai Colossesi una rappresentazione vivacissima di questa trasformazione che è avvenuta da parte della creatura umana proprio con l'immagine del vestito avete nel capitolo terzo i versetti nove dodici quando egli rappresenta la vicenda battesimale ancora con le stesse immagini qui è sempre un po' la continuità del messaggio di Paolo e trovate anche quel messaggio vertice che tra poco io vi leggerò nella versione dei Galati la cera vi siete spogliati nel capitolo terzo dei Colossesi dell'uomo vecchio con le sue azioni avete rivestito l'uomo nuovo vedete non è un mantello esteriore è l'uomo nuovo che si rinnova per una piena conoscenza e immagine del suo creatore qui ora non c'è più greco o giudeo circoncisione o incirconcisione barbaro uscita schiavo libero ma Cristo è tutto in tutti rivestitevi dunque come eletti di Dio santi e amati eccetera ed ecco la stessa cosa anche qui nella lettera ai Galati anticipata vi siete rivestiti di Cristo non c'è più ora giudeo né greco non c'è più schiavo né libero non c'è più uomo né donna perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù vedete Paolo dice se noi dobbiamo osservare le norme di una di una razza la prassi l'atteggiamento rituale le osservanze di un mondo particolare come quello giudaico noi siamo sempre divisi tra di noi Cristo è venuto e ha offerto qualcosa che è in assoluto necessario a tutti che è principio assoluto di salvezza la sua grazia e noi tutti che siamo credenti in lui tutti uguali senza nessuna distinzione veniamo sollevati e diventiamo tutti e qui c'è questa traduzione siete uno in greco che adesso vi leggo c'è eis maschile non una cosa sola siete diventati una sola persona ecco la dottrina del corpo di Cristo che è la Chiesa tutti sono una sola persona il greco ha ukeni iudaios ude ellen sono quei versetti in cui Paolo usa il greco anche in maniera trasparentissima iudaios ellen l'udeo è greco ukeni dulos lo schiavo ude eleuferos il libero l'eleuferia è la libertà ukeni arsen cai felium non c'è maschio arsen cai felium femmina la differenza sessuale Paolo usa proprio il nome uomo e donna aner e gine pan tess tutti gar humeis tutti voi eis este eis una sola persona siete in Cristo in Cristo eis e questo è il punto terminale quel punto che ora si aprirà a quel terzo elemento dopo aver visto l'elemento Vangelo e l'elemento fede e legge il terzo elemento che è l'elemento della vita da figli tutti figli di Dio e tutti uguali io concludo ora a questo punto il terzo elemento lo dovremo considerare necessariamente la prossima settimana prima di tutto complimentandomi con voi per la vostra pazienza per essere riusciti a stare per tutto il tempo attorno a questo testo non facile come dicevo e vorrei concludere con una indicazione come vedete però una volta che si entra io spero che possa avvenire sempre di più anche per voi perché Paolo non ha scritto per i teologi ha scritto per tutti i cristiani della Galazia di Roma eccetera avvenga un po' per tutti quello che deve avvenire io credo per il teologo un teologo del nostro tempo Karl Barth ha scritto una testimonianza un po' autobiografica però lasciandolo un po' a tutti quelli che si interessano di teologia io dico deve essere qualcosa che deve valere per tutti i cristiani che si interessano delle ragioni del loro credere egli ha scritto così la teologia anche se qualche volta si presenta con un certo volto faticoso perché cerca il mistero e non è una cosa superficiale ma è una cosa che si possa così orecchiare purtroppo come spesso avviene tante volte in tanti libri sui giornali la teologia la teologia è la più bella tra le scienze tra le scienze però solo un alto grado di barbarie può rendere la teologia un peso e questa è la colpa di tanti teologi che la rendono un peso e sono barbari o si è teologi volentieri con gioia o altrimenti non lo si è in fondo o per nulla se non c'è la passione nello studiare il testo nello studiare il mistero dell'uomo e di Dio non lo si è nell'ambito di questa scienza non è proprio possibile che vengano tollerati volti burberi idee che infastidiscono e noiosi modi di dire e io spero di non essere troppo noiosi